Molte persone con disabilità hanno difficoltà a muoversi e utilizzano diversi ausili. Le persone munite di uno specifico contrassegno possono parcheggiare il veicolo in appositi stalli. Se occupi abusivamente questi parcheggi, puoi creare grandi disagi. Le persone che si muovono in carrozzina scendono e salgono sui marciapiedi o attraversano la strada grazie a appositi scivoli posti in prossimità degli attraversamenti pedonali. Non parcheggiare sulle strisce pedonali o davanti agli scivoli perché potresti impedire a queste persone di percorrere i marciapiedi e di attraversare la strada. Le persone con difficoltà a deambulare hanno bisogno di muoversi in spazi sufficientemente larghi e privi di ostacoli. Non lasciare monopattini e biciclette al centro del marciapiede o adiacenti ai muri degli edifici. Qualcuno potrebbe inciampare e farsi male. Le persone con difficoltà visive utilizzano percorsi tattili per orientarsi. È importante lasciare liberi questi percorsi perché chi si allontana dal punto di riferimento potrebbe perdere l'orientamento. Rispettiamo le diverse esigenze di mobilità delle persone con disabilità perché la città è di tutti. Home is with you wherever that may be Rispettiamo le diverse esigenze di mobilità delle persone con disabilità.